Io ho fatto un momento simile. Potremmo poi, ne sei felice. Ora vivi genetico. Ora, guarda che erano così, se è un'amaviglia e libera, questo egli e vi dà una storia. Ti dico a dirmi che erano così erano così, invece non si vado a fare il mio lavoro. Oressa Manonamaeva, ma questo è il libro Diego Ossco, Rancissuco, De Paura, Fanne, Nepomuse, Inomaria, De Rosu, Remedioso, Curisupen, Curisupiano, Drassantissima, Torini, Da Doru, Isui, Picasso, Yara, Naika, Murai, Da, Ria, Cuscite, Ma, Pia, Da, Sate, Gicamona, Ishi, Sacutto, Fite, I Cuzzo, Conoma, Ewa, Zen, Tenga, De Takarana, Conca, Imo, Kamibiki, Iscite, Yaru, Zeta, Ora, 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 Ora Grazie a tutti.